Riforma del reddito di cittadinanza. Si prevede così l'inserimento dei beneficiari per un periodo di sei mesi in un corso di formazione o di riqualificazione professionale, già dal 1 gennaio scorso e fino al 31 dicembre. La misura del reddito è riconosciuta nel limite di un massimo di sette mensilità. Fanno eccezione i nuclei familiari con componenti affetti da disabilità minorenne o persone con almeno 60 anni di età. I beneficiari, in caso di mancata frequenza del percorso formativo assegnato dal programma, vedrebbero decadere il diritto all'acquisizione del reddito di cittadinanza. Saranno così le regioni a trasmettere all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei percettori di reddito di cittadinanza che non rispettino l'obbligo di frequenza. Se a percepire reddito sono persone tra i 18 e i 29 anni che non hanno terminato il ciclo di istruzione obbligatoria, la legge inoltre prevede che l'erogazione del reddito sia subordinata anche all'iscrizione alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti di primo livello o funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno stipulato un protocollo con cui sono state individuate azioni mirate a facilitare le iscrizioni a percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e per attuare le disposizioni già previste da legge. Il beneficio quindi del reddito decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Inoltre la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Infine l'agevolazione per l'assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza per le aziende che prevede l'esonero totale fino a 8.000 euro per tutte quelle assunzioni effettuate proprio dalle imprese a tempo indeterminato e le eventuali trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che saranno effettuate tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Grazie a tutti.